Io ci sono. Assessore, è una giornata importante per Rimini, non solo per Rimini della Palavolo, ma per tutta la Rimini sportiva. Sì, è il weekend che vede Rimini al centro dello sport nazionale, con il trofeo CONI, il principale evento sportivo giovanile in Italia, e soprattutto, cosa di cui sono contentissimo, anche l'apertura di questo impianto, perché quando si apre un nuovo impianto sportivo non esistono colori politici, eventi o qualunque tipo di cosa che possa, diciamo, togliere importanza al fatto che sarà il luogo dove ci sarà la possibilità di fare sport. Insomma, io sono contentissimo perché poi è venuto veramente bello e al di là dell'estetica è un impianto veramente performante perché ha una piastra enorme, ha vie di fuga, ha due campi di gioco che si possono usare contemporaneamente per la Palavolo per i fondamentali, ha tutta una serie di strutture che possono essere utilizzate come spogliatoi, palestre, e quindi sono orgoglioso perché abbiamo cercato di inaugurare questa nuova metodologia di pianificare gli impianti sportivi monodisciplinari, perché immaginate quanto sia importante avere impianti monodisciplinari, dovrebbe essere così in tutti gli sport, l'abbiamo fatto per il basket, adesso lo facciamo per la Palavolo, cercheremo sempre di più di farlo in tutti gli sport e quindi non posso che esprimere grande soddisfazione e felicità più che altro per gli sportivi, per lo sport.